Chiusura in grande stile sabato scorso a Favara delle manifestazioni organizzate in occasione delle festività natalizie. Un castello chiaramonte colmo di gente ha assistito al concerto tributo alla città del giovanissimo artista Giovanni Suterasardo. Quest'ultimo, reduce dai successi ottenuti nella nota trasmissione Rai, Ti lascio una canzone, ha offerto ai presenti una entusiasmante performance. Ad accompagnare Giovanni dal palco le note dell'orchestra Sapore Italiano, coordinata dal maestro Graziano Mossuto. Ti senti soddisfatto di questa serata? Sì, molto soddisfatto, ho cantato le mie canzoni, spero di averle cantate bene, per me le ho cantate bene certo, spero di aver soddisfatto il pubblico, credo che si siano divertiti. Ne farai un altro? Beh sì, credo proprio di sì, mi piacerebbe farne un altro. Lei che ha lavorato con grandi artisti, anagraficamente, stavolta per lavorare con piccoli artisti, che differenza ha avuto? Allora, Giovanni è un grande artista, io fra l'altro ho capito subito sul talento di questo ragazzino, che veramente immediatamente ho avuto l'intuitività. Ah, ebbene, abbiamo avuto il piacere questa sera di aver avuto con noi grandi musicisti, e devo dire che abbiamo circondato Giovanni dei migliori musicisti della provincia di Agrigento. È stato un bel concerto, noi speriamo di portarlo in giro in tutta Italia, perché veramente c'è stato un lavoro incredibile, sono dieci giorni che lavoriamo come pazzi ad estraporare le parti, perché poi sono brani difficilissimi. Lei è soddisfatta del suo piccolo allievo? Certamente, sicuramente è stata una serata fantastica, allegra, è all'insegna della musica, all'insegna dell'amicizia, perché tra l'altro l'hanno sostenuto anche i bambini che con lui hanno vissuto questa esperienza. Giovanni è cresciuto di giorno in giorno, ha vissuto l'esperienza di ti lascio una canzone come un gioco, però è un gioco che fa crescere. Suggestivo è il colpo d'occhio della Sara del Collare, che ha anche accolto i protagonisti siciliani del talent show televisivo, e che si sono anche esibiti. Ad applaudire i giovani cantanti, anche il sindaco di Favara, Rosario Manganella. Ci sono state tantissime iniziative realizzate dal comune, alcune realizzate anche dai privati, e abbiamo assistito a una serie di iniziative che hanno proiettato il nostro comune nel panorama più generale della nostra provincia, e mi permetto di dire anche della nostra regione, specie con la manifestazione di questa sera, con i ragazzi di Ti lascio una canzone, che allieteranno questa ultima serata, prima della epifania che porta via tutte le feste. La serata di gala, oltre che dalla musica, è stata ulteriormente impreziosita dalle prelibatezze offerte ai presenti dal padre di Giovanni, Fabrizio. Quest'ultimo, pasticcere di professione, ha voluto ringraziare la cittadinanza per il sostegno dato al proprio figlio con un ricco buffet di dolci. Ti piacciono quindi i dolci di Favara? Sì, mi piacciono molti i dolci di Favara. Quale ti piace di più? Di più quelle con la crema di pistacchio che erano buonissimi.